Allora riprendiamo invece da qua, dove eravamo arrivati insieme giovedì scorso, queste tre figure sono essenzialmente le tavolozze bianche nelle quali possiamo andare a impostare le interfacce grafiche, in particolare come interfacce grafiche diciamo così rivolte agli utenti dei sistemi informativi ce ne sono di tre grosse tipologie al giorno d'oggi, oggi nel 2017, le interfacce web, quindi siti, internet che si basano sulle tecnologie web che abbiamo visto brevemente insieme e che quindi sono accessibili attraverso un browser con una serie di convenzioni con una serie di limitazioni, tecnologie di tipo desktop, quindi programmi che si installano sul vostro computer e che a questo punto hanno molte meno limitazioni, potete fare molte più cose anche in termini di interazione, di rapidità, di funzionamento, di combinazione di tasti vari o di mosse del mouse che si possono fare, oppure applicazioni mobili. Quindi già anche solo dal bordo della finestra di questa figura, se avete uno schizzo, un'idea, un pensiero di interfaccia grafica messo dentro un browser o messo dentro un'applicazione installata o messo dentro un'app mobile, già l'utente ma anche noi come progettisti partiamo con delle aspettative diverse perché le convenzioni d'uso sono diverse, perché il tipo di elementi di interfaccia sono leggermente diversi e così via. Quindi da questo momento in avanti nella progettazione bisognerà scegliere quello che stiamo facendo è per un'interfaccia web, è per un'interfaccia mobile, è per un'interfaccia desktop, perché poi le scelte che si faranno saranno diverse. Uno non può pensare di prendere un sito e fotocopiarlo dentro un'applicazione desktop, perché sarebbe poco funzionale. Quindi queste sono le tre grosse famiglie. Noi ci concentreremo soprattutto sulla parte web che è quella che predomina il tipo di interfacce per sistemi informativi. E il lavoro della progettazione dell'interfaccia è cosa metto dentro ciascuna pagina, ciascuna videata, come faccio a far percepire all'utente il significato di ciò che c'è sulla pagina e il significato dei collegamenti che ci sono tra questi elementi? dico una banalità, se ho un campo con scritto nome, un campo con scritto cognome, come fa l'utente a sapere che quel nome e quel cognome sono relativi alla stessa persona? Voi dite è ovvio, a chi mai potrebbero essere relativi? È un sottinteso, non è scritto, non abbiamo mai avuto bisogno di vederlo scritto, scrivi il tuo nome, scrivi il cognome, ma che sia proprio il tuo e non quello di qualcun altro? Perché da un lato sono informazioni che noi siamo abituati a vedere correlate, dall'altro anche visivamente quei due campi sono messi vicini, se fosse messo nome da una parte e cognome dall'altra probabilmente avremo qualche difficoltà in più. Come capita quando si devono compilare i vari moduli, adesso voi non più perché siete maggiorenni, ma tutti i moduli, la modulistica per la scuola, dove ci sono i genitori che sono che scrivono i figli o che chiedono che il figlio possa partecipare alla gita eccetera eccetera, non sai mai se mettere il nome del genitore o del figlio perché il modulo non è chiaro. Le informazioni sai quali sono ma non è evidente spesso, se i moduli non sono fatti bene, in che posizione mettere queste cose. E l'interfaccia deve anche permetterci, dovrebbe anche permettere agli utenti di raggiungere con il minimo sforzo, quindi con la minima fatica ma anche con il minimo errore, possibilità di errore, raggiungere gli obiettivi dei casi d'uso. Quindi fare in modo che l'interfaccia mi aiuti sullo scenario principale. Ovviamente l'interfaccia deve gestire tutti i scenari ma la via più rapida è quella dello scenario principale. Quindi evitare l'interfaccia che per compiere l'azione più frequente o più importante mi facciano fare una strada troppo tortuosa. Quindi progettare l'interfaccia intorno non solo all'informazione, ai dati che devono essere scambiati ma anche al percorso che deve fare l'utente. Questi sono un pochino i pensieri che dobbiamo tenere a mente. Però di interfaccia non si può parlare. Cioè non è che posso andare con il mio cliente e raccontare ma ho pensato un'interfaccia in cui metto in un angolo i nomi, nell'altro i cognomi, nell'altro la data e poi dopo quando l'utente ha inserito questo passa, cioè non si capisce nulla. Per poter progettare insieme e progettare insieme agli utenti che è l'unico modo di essere sicuro di fare qualcosa che poi l'utente alla fine gradisca e capisca è necessario progettare avendo di fronte a sé l'interfaccia. Come faccio a dire se due elementi messi l'uno a fianco dell'altro si capiscono, si capisce che cosa rappresentano? Non posso a parole, devo vederli e chiedo all'utente secondo te questi cosa sono? Se lui mi risponde correttamente vuol dire che si capisce, ma banalizzando i metodi di intervista. Però io non posso avere l'interfaccia finita, capite qui c'è un paradosso, io per poter valutare se sto progettando correttamente l'interfaccia dovrei averla fatta e finita. Se ce l'avessi fatta e finita potrei chiedere all'utente o capire dagli utenti tutti gli errori che ci sono nella progettazione o tutte le cose invece che vanno bene. Però non posso farla, puoi capire che non va allora rifarla n volte. Devo riuscire a darmi degli strumenti attraverso i quali io possa estrarre dal test con l'utente, dal dialogo dei test con gli utenti, la maggiore informazione possibile a riguardo dell'usabilità dell'interfaccia che sto progettando. Strumenti intermedi che dal punto di vista dell'utente siano quasi come se fossero l'interfaccia finita, quindi gli danno la stessa informazione quasi che avrebbe se l'interfaccia fosse finita ma a me costano un millesimo dell'interfaccia finita. Perché l'interfaccia finita e funzionante significa che dietro c'è anche tutto il sistema finito e funzionante. Quindi per questo si sono inventate tutta una serie di tipologie di prototipi, cioè versioni preliminari incomplete rappresentative dell'interfaccia utente. Quindi che facciano capire, percepire all'utente quello che potrebbe essere l'aspetto del sistema finale. Prototipi plurale perché probabilmente se ne faranno molti, faccio una prova, facciamo un po' di test, modifichiamo, abbiamo capito che è meglio modificare qualcosa, allora modifichiamo questo prototipo, poi man mano che andiamo avanti col progetto faremo dei prototipi via via più raffinati, più fedeli, il primo lo facciamo brutto, un foglio di carta e una penna, il secondo lo facciamo già un pochino più bello, il terzo lo facciamo a colore, il quarto lo facciamo animato, man mano che andiamo avanti, tra l'altro lo sviluppo del sistema va già avanti in parallelo, quindi abbiamo anche degli elementi grafici interattivi da poter inserire. Quindi molta del studio di usabilità si basa proprio sulla disponibilità di questi prototipi, soprattutto quando stiamo progettando qualcosa che non esiste ancora, se invece stiamo valutando l'usabilità di qualcosa che esiste già, allora servono meno. E prototipi sono degli strumenti che ci accompagnano lungo tutto il ciclo di sviluppo per fare la verifica della correttezza di ogni singolo passaggio. In ogni passaggio è sempre possibile coinvolgere gli utenti e testare insieme gli utenti, visualizzare insieme gli utenti, provare insieme gli utenti il prototipo del sistema così come l'abbiamo, fino al punto in cui l'abbiamo realizzato, questo sempre parlando dell'interfaccia utente. Quindi il nostro, poi qui c'è un possibile cadenzamento delle funzionalità di sviluppo qua sotto con una serie di possibili tipi di prototipi che possono essere utilizzati nelle varie fasi. Non voglio entrare nei dettagli su questo, se non per dire che la cosa importante è che dopo una fase di sviluppo, ne prendo una a caso, avrò un risultato della prototipazione dell'interfaccia che posso verificare con un prototipo e questo mi dà delle informazioni sulla fase stessa, quindi mi permette di fare le azioni correttive locali oppure anche le azioni correttive più globali sulle fasi precedenti. Tutto questo lo posso fare, quindi il valore aggiunto in termini di qualità che mi danno queste frecce all'indietro ce l'ho solamente se riesco a coinvolgere gli utenti finali del sistema durante lo sviluppo del sistema stesso. Questo è uno dei punti cardine della progettazione centrata sull'utente, che l'utente deve partecipare fin dal inizio. Non io so tutto, lo progetto in modo che vada bene. Questa mentalità che purtroppo c'è in molti sistemi gestionali esistenti porta a dei risultati che se va bene non sono terribili, ma sicuramente non sono gradevoli o graditi. Ecco io poi non voglio perdere o farvi perdere troppo tempo sulle varie sfumature di quali tipi di prototipi possono esistere. Qui ho provato a lanciare così a modo di flash, una tassonomia di quelle che sono le caratteristiche dei prototipi, per questo continuo a usare il plurale, non è una cosa sola, sono molti diversi, non è come se dicessi il diagramma delle classi, quello è una cosa ben definita. Prototipi sono una famiglia di strumenti, famiglie di strumenti che possono avere scopo diverso, possono avere uno scopo di capire se un prodotto che sto pensando viene percepito per quello che è, quindi il ruolo che ha quel prodotto nella vita dell'utente ad esempio, oppure il tipo di interfaccia, oppure magari ho un aspetto molto specifico dell'implementazione del sistema, che ne so, voglio cambiare il modo in cui si inserisce il bancomat dentro, la tessalina dentro il bancomat, allora ho un dettaglio del sistema e voglio testare l'implementazione di quel dettaglio, poi il resto magari penserò separatamente, quindi potrò avere prototipi del sistema intero oppure solamente di una piccola parte perché è quella su cui immagino ci potranno essere maggiori problemi, quindi il prototipo può coprire l'insieme di tutte le funzioni del sistema oppure anche solo, qui lo chiama locale, alcune di questi sottoinsieme, dipende da che cosa sto verificando, io mi aggancio visualmente a quello sviluppo del processo di prima che avevo fatto di tante fasi, alla fine di ogni fase devo testare il risultato, l'obiettivo di quella fase specifica. Molto spesso è sufficiente avere dei prototipi con un livello di fedeltà anche basso, cioè uno schizzo fatto su un foglio di carta, è molte volte sufficiente per capire, una serie di schizzi, è molte volte sufficiente per capire qual è la sequenza delle schermate all'interno di un'applicazione. Poi invece a volte voglio fare qualcosa di più curato in cui vado a riprendere, fare bene il layout, riprendere bene la grafica, i colori, che saranno già quelli del prodotto definitivo. Però se io posso, diciamo con Photoshop, fare bene un prototipo d'alta fedeltà, ben curato, perché dovrei volerlo fare a bassa fedeltà? Perché faccio prima, perché un grafico, tirarmi giù quattro schizzi ci mette 30 secondi, è il modo per farmi capire il ragionamento che sta facendo. Per fare quattro disegni fatti bene in Photoshop magari ci mette due giorni, e allora l'iterazione di progetto, il miglioramento incrementale si rallenta di molto. Quindi in ogni fase bisogna scegliere lo strumento che mi dia l'informazione che serve, ma che costi in quel momento il meno possibile. E questo prototipo, soprattutto parlando di quelli che non sono, o meglio, possono esserci, per certo la frase, ogni prototipo può essere, diciamo così, simulare già in grado, a livello più o meno fedele, quello che sarà il comportamento del sistema. Allora, il sistema informativo è qualcosa di interattivo, che interdisce con l'utente, man mano che l'utente inserisce dati, il sistema li raccoglie, li verifica, dici se c'è un errore, eccetera, eccetera. Allora, il prototipo deve essere pienamente interattivo così come lo è il sistema, per cui se inserisco il nome ma non il cognome mi dà un errore, oppure chiaramente se è uno schizzo fatto su un foglio di carta non può reagire, non può interagire con me, semplicemente c'è il foglio di carta e basta, io faccio finta di scrivere o immagino di scrivere, ma il foglio di carta non mi risponde. Quindi anche qua abbiamo livelli di interattività diverse, dal prototipo statico, in cui ho una serie di ipotesi divideate e quelle sono, poi possono essere disegnate su carta, possono essere disegnate a computer, possono essere finte pagine web o quello che volete, livello di fedeltà indipendente, però sono statiche, quelle sono. Oppure potrebbe esserci qualcosa di effettivamente interattivo, che è il terzo punto, in cui l'utente gioca col sistema, con dei dati finti, magari inventati, sistema che non abbia tutta la logica dei business data, magari non sia completo, eccetera, ma quelle due o tre pagine sembrano vere, effettivamente reagiscono all'azione dell'utente, se l'utente clicca da una parte il sistema gli mostra un certo risultato, se l'utente clicca dall'altra il sistema gli mostra una cosa diversa. La via di mezzo potrebbe essere interfacce dinamiche in cui si vede che il sistema evolve, fa delle cose, ma non necessariamente sul risposto dell'utente. Che ne so, una presentazione PowerPoint con una serie di schermate, è dinamica perché cambia, non è fissa, ma non risponde alle azioni dell'utente, perché ha una sequenza predefinita di frame, di immagine, così come un video di presentazione. Quindi sono anche qua le... e poi ci sono dei prototipi che sono spesso usa e getta, prototipo chiamato esploratori o esplorativo, cioè voglio fare una prova per verificare, che ne so, se è meglio il menu metterlo in alto o metterlo a sinistra. Allora facciamo due schizzi alternativi, prendiamo un po' di utenti, li facciamo usare, li facciamo vedere e alla fine decidiamo. Dopodiché gli schizzi che abbiamo fatto, i prototipi che abbiamo fatto li buttiamo via, perché poi la protetizione del sistema verrà fatta poi dai grafici, da chi farà HTML, i fogli di stile, eccetera, per bene. Oppure l'estremo opposto è cominciare già ad abbozzare, già direttamente nella stessa tecnologia con cui farò il sistema, delle componenti del sistema. Se io devo sviluppare un'app mobile per fartela testare, beh, costruisco un'app mobile molto più semplice, ma i cui pezzi di interfaccia siano poi gli stessi che già, che poi traghetteranno, diciamo così, evolveranno nell'applicazione complessiva, finita. E quindi in questo caso ci posso investire di più anche in questo prototipo, perché in realtà sto già facendo una parte di sviluppo. Qui faccio solo alcune viteate, cioè per capire come è organizzato il sito basta una cosa di questo genere. Allora c'è il cliente che ha una pagina in cui vede i viaggi, questi viaggi può scegliere i mezzi, gli accompagnatori, le date, cioè è un'idea incompleta di una mappa del sito, magari questa viene stata fatta interattivamente col cliente. Ma poi per avere una mappa più dettagliata, ad esempio, posso avere strumenti come questi. Questi sono tratti da corsi, no, sulla usability, dove ci sono degli esempi reali che sono stati sviluppati magari in gruppo o in laboratorio. Una serie di videate in cui faccio vedere, guarda, l'utente avrà una certa serie di, questa è una parte mobile, un'interfaccia mobile, e a seconda dei, ci sono delle frecce che ci fanno vedere, a seconda di che cosa fa l'utente, qual è la pagina successiva e grossomodo, grossonanamente, quali sono gli elementi di interfaccia che compaiono in ciascuna videata. Qui c'è una videata con sito sì, no, è una videata di conferma dedicata, questa è una videata in cui c'è un contenuto e tre bottoni sotto, adesso noi non sappiamo, da sole non si spiegano queste cose, però fanno parte di un processo di sviluppo iterativo. Non serve fare le cose belline a colori per capire se sì, no, si capisce o non si capisce. Oppure, vabbè, posso renderlo un pochino più bello, questo è stato fatto con un programma di grafica piuttosto che non affatto a mano, in cui vedo degli schizzi dell'interfaccia, delle bozze anche molto approssimative di ciascuna videata e la sequenza, storica, quindi lo storyboard, cioè la storia, la sequenzializzazione storica di qual è l'ordine in cui si possono presentare queste pagine. e dal punto di vista della qualità visiva, queste qua sono due pagine identiche, tranne per lo stile grafico. In realtà è lo stesso tool che ha fatto la stessa pagina e può commutare da una visualizzazione di un tipo alla visualizzazione dell'altra. Adesso qui la differenza è minima, ma mi serve per portare esempio. La seconda pagina sembra più finita, la prima sembra più schizzata a mano. È la stessa, se andate a vedere gli elementi che ci sono, sono esattamente gli stessi. Allora, perché? Ma perché io quando presento un prodotto all'utente, a volte voglio dargli la percezione che il prodotto sia quasi finito e quindi lui si concentri sui dettagli. A volte voglio evitare che lui si concentri sui dettagli, sul colore del logo, sulla dimensione del carattere, e allora volutamente userò uno stile di disegno più brutto, o perlomeno più approssimativo, e questi sono quelli detti mockup. Un mockup è un disegno che ricorda uno schizzo manuale e contiene degli elementi dell'interfaccia grafica. Un disegno più preciso a volte viene chiamato wireframe come fil di ferro, una griglia di fil di ferro, in cui ho già gli elementi posizionati nei punti giusti, ciò che manca sono i colori, la grafica, eccetera, ma il resto della pagina è già abbastanza ben avvitato con il fil di ferro, sui punti giusti della griglia. Sono solo impressioni, però lavorando con gli utenti, questo è importante, guidare l'utente a fare attenzione ad alcune cose e non ad altre. E io devo ovviamente costruirle queste pagine, queste videate, questi mockup, per fare seguire all'utente un certo percorso di navigazione. Quindi l'utente dovrà passare attraverso una serie di pagine, all'interno di ciascuna pagina avrà una serie di elementi e quindi dovrà leggerli in un certo ordine, o percepirli in un certo ordine, che cosa le faccio vedere e in che ordine le faccio vedere, in modo da, appunto, da un lato soddisfare il requisito del sistema, cioè devo implementare quel caso d'uso, e dall'altro farlo nel modo migliore possibile per l'utente. Qui ci sono altri esempi, il passo successivo rispetto allo schizzo su un foglio di carta è avere già un minimo di ingegneria, io mi faccio già un po' di fotocopie di videate e vuote e ci schizzo sopra. Quindi anziché mettere i pezzi su un foglio di carta unico, ho tanti pezzettini di carta che poi posso mettere a togliere. Allora dico all'utente, allora guarda questa videata, qui cosa capisci? Se volessi inserire un nuovo dato, se volessi, che non so, iscriviti all'acadono, dove andresti in questa videata? Lui ti dice vado qua. Ok, allora gli dai l'altra videata che l'avevi già pronta, fatta a mano, dicendo ok, adesso sei di fronte a questo, cosa fai in questo momento? E si riescono già a fare simulazioni di questo genere, è un po' una interattività finta, però è comunque abbastanza efficace, io mi sono previsto le varie strade e vedo se l'utente prende le strade corrette. a volte cose di questo genere prendono il nome di tecnica del mago di Oz, in cui hai un utente esperto che si sostituisce al sistema, da lui le risposte che darebbe il sistema e quindi però all'utente finale sembra quasi che sia il sistema che risponde, cioè non si sta relazionando con la persona, ma si sta relazionando con le risposte della persona che simulano quelle che saranno le risposte del sistema. Quindi di nuovo stiamo pensando a sistemi molto rapidi da mettere in piedi, perché in continuo insistere sulla rapidità e sulla facilità di mettere in piedi queste cose, ma per una ragione di budget, cioè fare questo tipo di analisi, questo tipo di studi sul budget di sviluppo di un sistema informativo è ridicolo, potrebbe essere il 2%, 5%, ma non ci arriva il 5%, se conti in mezzo a tutto il costo dell'hardware, del database, della risoluzione della documentazione, però è quel pochissimo budget che ti può fare la differenza nell'accettazione del risultato finale del sistema da parte degli utenti. Quindi ha un impatto poi sulla, soprattutto se siamo nel B2C, cioè se l'utente è veramente un utente finale che deve sceglierti e non è un dipendente dell'azienda che deve usarlo per forza perché fa parte del suo lavoro, in termini di accettazione del sistema per l'utente finale ti fa una differenza anche notevole. se tu devi andare sul sito del Politecnico per iscriverti all'esame, se anche fosse fatto male non hai scelta, quello è. Se invece già devi cercare un percorso su un sito di mappe o di turismo o prenotare un albergo, di alternative ne hai a decine, allora scegli quello che è più facile da usare, più veloce da usare, che dà risultati migliori. Quindi quando l'utente ha la possibilità di scegliere, l'aver fatto uno studio accurato dell'interfaccia utente dà un impatto, un risultato molto maggiore, ha una differenza di budget molto bassa. Quindi era per dire, io mi stupisco ogni volta in cui in qualunque progetto non ci sia, non sia prevista una fase di user center design di questo tipo qua. Vabbè, poi i passi successivi questo signore qui ha fatto, stava progettando una sorta di smartwatch e ha fatto un prototipo in PowerPoint. Questi sono videati di PowerPoint in cui ci sono dei bottoni, sapete che PowerPoint ha la possibilità di aggiungere, fare un link quando cliccate su alcuni elementi, salta la diapositiva 3, salta la diapositiva 8 e quindi puoi già simulare cosa succede, che non so, se ricevi una chiamata al telefono, tac, allora tu clicchi qua e su quel bottone e allora il PowerPoint salta alla slide che mostra cosa farebbe il telefono nel momento in cui ricevesse una chiamata. Quindi è già un pochino più strutturata questa cosa. Ecco, per fare queste cose, questo tipo di interfaccia abbiamo bisogno di, come le chiamano stencil, stencil è il nome dei vecchi normografi che si usavano per la matita. Cioè una serie pronta all'uso di pezzi di interfaccia utente da poter comporre. Queste interfaccia utente sono dei linguaggi veri e propri. Cioè l'utente di un sistema, questi sono degli stencil per iOS, hanno gli elementi di interfaccia dei prodotti Apple, dove sai che se vedi una cosa di questo genere sono tre bottoni mutuamente esclusivi, perché gli utenti sono abituati a usare quel componente grafico. Cioè ogni sistema operativo, ogni strumento per generazione di interfaccia, quindi che sia web, che sia map, eccetera, mette a disposizione una serie di componenti di questo genere. E io per creare questi prototipi faccio un po' di copia e incolla di questi oggetti per costruire interfacce che siano analoghe, usando il linguaggio che gli utenti di quella piattaforma hanno già imparato, linguaggio grafico, visuale. Quindi quando l'utente vede una certa cosa, sa già come si comporta e sa che i messaggi di errore compaiono tutti nello stesso modo, modo, i messaggi di conferma compaiono tutti nello stesso modo, io avrò cura di usare quella stessa convenzione in modo da facilitare la comprensione del sistema all'utente. E quindi il mio problema è organizzare questo linguaggio, i termini di questo linguaggio, che sono i singoli cosiddetti widget, ciascuno di questi elementi prende il nome di widget, che è una parola in italiano che non credo che si possa tradurre, credo che la traduzione più vicina sia un cazzillo, cioè un cosino, una robetta, che li devo mettere nella pagina. L'utente interagisce con questi elementi per cui se l'utente deve poter scegliere una data, ho bisogno di un widget, andiamo un po' a cercarlo, che mi permetta di tirare fuori un calendario. Se l'utente deve scegliere, che ne so, il volume dell'audio, ho bisogno di un widget diverso, che so, magari uno slider che mi permette di andare avanti e indietro. quindi trovare il tipo di elemento più adatto al tipo di manipolazione sui dati che l'utente dovrà fare. Questo per il singolo widget. Dopodiché più widget fanno parte di una pagina e quindi mi chiedo, la pagina ha uno spazio definito? Nel caso del web ha uno spazio più lungo perché posso fare scrolling, anche se dovrei evitare di farlo a lungo. Ma in quello spazio gli elementi come sono collocati? Allora, siamo anche noi abituati, anche qui, a interpretare un linguaggio visuale di impaginazione. Una cosa grande seguita da una cosa piccola significa che la prima è il titolo per la seconda. Se ho più cose grandi separate, vuol dire che queste sono le varie sezioni, i vari argomenti in cui è diviso il modulo e che all'interno invece avrà delle informazioni. Cose affiancate devono essere cose indipendenti, più colonne, così via. Quindi noi dobbiamo tradurre le relazioni concettuali tra i dati in relazioni visuali all'interno della pagina. Adesso qui non siamo in un corso di design e quindi ci limitiamo a dare qualche idea e poi a fidarci ciascuno al proprio intuito, in certo senso. Però c'è chi studia e fa questo di mestiere. E poi a livello ancora superiore le singole pagine sono organizzate tra di loro in quella che si chiama l'architettura dell'informazione, c'è qualcosa che le lega insieme e ti fa capire dove devo andare per trovare quella pagina. Quali sono i percorsi possibili, quali sono i menu che ti permettono di navigare all'interno di tutte le opzioni possibili. Poi arrivano a una delle opzioni, vedrò una videata che ha un certo layout, quindi interpreto il layout, all'interno di ciascun elemento del layout ci sono i widget che interpretano alla loro volta che cosa fanno. Quindi noi quando navighiamo su un sito o su un'applicazione stiamo interpretando il linguaggio del sito a tre livelli diversi. I singoli elementi, le pagine e l'architettura dell'informazione, ossia la navigazione generale tra le varie pagine del sito. E l'utente quando interagisce con i singoli elementi di una pagina può fare cose molto diverse. Io qua ho messo una serie di verbi a cui poi dobbiamo fare attenzione nell'usare quello corretto. Cioè quando io sono, immaginiamo una pagina web, cosa posso fare? Posso guardarla. Guardarla significa leggere, visualizzare le immagini e cose del genere. Questo è ovviamente una informazione scambiata in un verso, dal sistema verso l'utente. Oppure potrei avere dei dati che sono un elenco, una tabella, un grafico. Allora io una tabella non la leggo, la analizzo. E se l'analizzo vuol dire che devo poter avere anche magari degli strumenti per poterla analizzare, magari ordinare per colonna, ordinare per rig, nascondere delle parti, eccetera. Oppure no, non lo so. Però l'azione che fa l'utente su una tabella di dati è sicuramente diversa rispetto a quella che fa su un paragrafo di testo. Il modo in cui leggiamo un libro di narrativa e il modo in cui leggiamo un libro di matematica è diverso. Perché i contenuti sono da fruire in modo diverso. Per sistema informativo poco cambia. Ho dei dati e te li sbatto. Per chi progetta l'interfaccia magari sì. Oppure poi ci sono le azioni invece in cui l'utente fornisce informazione al sistema. inserire. Inserire è un verbo che io uso quando l'utente deve mettere un dato che prima non c'era e che presumibilmente il sistema non poteva conoscere prima. Quanti anni hai? devo metterlo questo numero, non è che puoi... Diverso è scegliere. Qual è la tua provincia di residenza? Allora gli strumenti visuali per inserire e per scegliere sono diversi. Se devo farci scegliere la provincia ho due modi. Adesso qui sto un po' anticipando ma visualmente cosa faccio? O ho una tendina, un menu che clicco, mi compare, elenco le province e ne scelgo una. Oppure una casola di testo in cui appena inizio a scrivere si completa e mi prevede già qual è la provincia. Faccio la T, mi scriverà Torino, Taranto, forse basta. E io la scelgo solta con le due. Perché? Perché il sistema sa già quali sono le opzioni possibili e mi vincola a scegliere una di queste. Diverso è invece quanti anni hai, devo inserire il numero che voglio. Oppure come ti chiami devo inserire il nome che voglio, il mio nome. Il sistema non ha senso, non ha senso scegliere il nome da un elenco. Così come non ha senso inserire, che ne so, prima facevamo il caso d'uso in cui un utente ne invitava un altro, allora io non vado a inserire il nome della persona da invitare, vado a sceglierla. Perché c'è un elenco fisso noto dal sistema di quali sono le opzioni possibili. Se io inserisco un dato c'è sempre il problema di chiedermi ma questo dato che ho inserito è corretto, esiste, è valido, l'utente ha sbagliato. Se invece l'utente sceglie, sono io a monte che so quali sono i valori leciti e quindi l'utente non potrà inserire uno sbagliato. E poi ci sono i due meccanismi di ricerca. Io parlo di ricerca o di filtraggio su un elenco. Ricerca tipicamente alla Google, metto delle parole, metto dei termini e il sistema mi da un elenco, possibilmente ordinato in modo coerente dei risultati che soddisfano quei criteri di ricerca, che possono essere dei termini, possono essere dei vincoli booleani o quello che volete. Quindi fornisco io un informe, faccio una domanda dando dei criteri e il sistema mi dà una risposta. Fine. Diverso è invece un'interazione di ricerca incrementale, in cui io magari ho vari elementi e comincio a selezionare le proprietà di alcuno, un po' come fate in Excel quando fate un filtro, cominciate a dire ma io però voglio che il valore di questa colonna sia sempre 3 o sia minore di 7. Allora dalla tabella grande la riduce, vengono cancellate tutte le linee che non corrispondono a quell'elemento. In siti di shopping ad esempio, o di prenotazione alberghiere, funziona molto questa modalità, hai tutta una serie di opzioni e poi a fianco hai una serie di caselline selezionando le quali si riduce la scelta perché tu fornisci in modo incrementale tutti i criteri che vuoi. Applicare, che vuoi applicare su un elenco che inizialmente è molto ampio e poi via via si restringe. Sono due modi diversi per permettere all'utente di scendere da un insieme di possibilità molto ampio o tendenzialmente infinito fino a un insieme di possibilità molto più limitato. La parte di filtraggio funziona meglio se ho dei dati più strutturati perché ho più criteri secondo i quali poterli filtrare, la parte di di filtraggio invece funziona sempre, però anche con dati meno strutturati, però ovviamente è meno sistematica. Poi le altre azioni che può fare l'utente, confermare, sì, no, ok, annulla, cancella, elimina, dare delle azioni puntuali, atomiche. Quando io clicco su quel bottone voglio dire una cosa, non ti sto fornendo un dato, un numero, ti sto fornendo un'azione o un ordine diretto o una conferma o una domanda. Quindi un dato che si riassume in un bit solo praticamente. L'utente può esplorare o navigare insiemi ampi di informazioni. Sono su una mappa mi sposto, ho più linguette e posso spassarmi da una all'altra. Perché magari i dati che ho di fronte sono ampli, le scelte che ho di fronte sono ampie e quindi le ho raggruppate in più parti che non sono tutte visibili contemporaneamente. E allora l'utente può passare da una all'altra di queste parti coprendone alcune e scoprendone altre in base alle animazioni che mi dà l'interfaccia utente. Altre azioni, selezionare, selezionare, evidenziare delle parti di testo per fare copia e incolla ad esempio. Una delle operazioni più odiosa da fare su uno smartphone ad esempio, riuscire a selezionare le parole che vuoi tu. Mentre è banalissima su un'interfaccia web. Oppure spostare, la parte di drag and drop, il spostamento di elementi. Se pensiamo al tipo di azioni che facciamo, forse non neanche indicate tutte. Ecco, in questi verbi non c'è scritto mouse, tastiera, touch o altro. Perché inserire un dato è la stessa cosa che cliccare dentro un campo di testo e inserirlo sulla tastiera del computer su una pagina web, oppure selezionare un campo sullo smartphone e inserire il valore con la tastiera a schermo. Ovviamente sono materialmente cose distinte, ma concettualmente la stessa cosa. Ecco, tutte queste azioni come permetto all'utente di realizzarle? Attraverso i widget che mi mette a disposizione quella specifica piattaforma. Bottoni, caselle di testo di una riga, caselle di testo più ampi su più righe, bottone selezione singola, bottone selezione multipla, menu a comparsa o scomparsa, elenchi, elenchi di cui posso selezionare una voce, ne posso selezionare molte, griglie di immagini da cui posso selezionarne una o più, insomma cose di questo genere. Ogni interfaccia grafica ha le sue convenzioni. Io qua sono andato a cercarmi widget o stencil abbinato ai nomi di alcuni sistemi operativi e sono saltati fuori una serie di immagini, per esempio questo tizio qua si è messo a raccogliere vari pezzettini di interfaccia che costituivano l'interfaccia di Windows XP, che ancora oggi sopravvive in buona parte anche in Windows 10. Chi ha fatto il corso di Java l'anno scorso con me abbiamo usato dei widget che facevano parte della libreria JavaFX, che in qualche modo erano molto simili anche se non gli stessi del sistema operativo sottostante. Chi lavora su iOS è abituato ad altri tipi di elementi. Graficamente sono sempre un po' diversi, ma alla fine si riconducono a quelle azioni concettuali che abbiamo visto prima. Sono elementi concreti e specifici che ti permettono di fare quelle azioni. Su Android, questa purtroppo è una versione vecchia di Android, come tipo di grafica, ci sono altri tipi di elementi. Quindi noi dobbiamo usare ciò che ci da il sistema operativo sotto e comporlo al meglio per permettere all'utente di fare le azioni che voleva fare. In questo che cosa ci può guidare? Beh, ci può guidare sicuramente l'intuito, l'istinto, quello che volete, sicuramente il test con gli utenti, ma ci sono anche alcune regole. Allora io ho trovato delle regole, tanto per dare un esempio, anche se non sono esaustive. Queste erano datate del 95, sono passati quasi 20 anni. In realtà continuano a valere adesso, ancora adesso, buona parte di queste regole. Ad esempio, lui dice, se devo scegliere, choose, dei valori, come faccio a farlo? E lui dice, dipende. Se questi valori sono mutuamente esclusivi, usa un certo elemento. Se non sono mutuamente esclusivi, ne usi un altro. Cioè è possibile che l'utente voglia selezionare più di una voce o una voce sola. Allora, qual è l'elemento grafico che vi fa capire, immaginate di avere un elenco, scegli queste opzioni e c'è un elenco di opzioni sotto. Qual è l'elemento grafico che vi fa capire se delle opzioni è possibile selezionare più di una oppure è possibile selezionare una sola. La forma del bottone. Se il bottone è tondo, posso selezionare una voce sola. Se il bottone è quadrato, parlo di checkbox, posso spuntare più di una casella. questa è la convenzione che c'è dall'inizio dell'interfaccia utente. Chi non usa questa convenzione ci fa del male. Però noi visivamente dovremmo essere abituati che se abbiamo dei bottoni tondi ne posso scegliere uno solo, se abbiamo dei bottoni quadrati posso spuntare, infatti usiamo anche modi diversi, spuntare anche tutte quelle che sono pertinenti. Chi ha progettato l'iOS ha deciso che lui non li voleva questa dicotomia perché è troppo difficile e quindi come scelta singola ha usato bottoni di questo genere. Se trovate bottoni di questo genere potete premere uno solo per volta, non è possibile premere due insieme. non c'è un elemento per selezionare due o più elementi insieme. In iOS voglio avere una selezione multipla, devo avere una batteria di bottoni di questo genere, on off, messi uno sotto l'altro. In un'interfaccia invece desktop ho i radio button che sono questi, che sono mutuamente esclusivi, oppure le checkbox che sono queste, le posso usare differentemente perché usano un linguaggio diverso, più ricco tutto sommato rispetto al linguaggio mobile. sapete perché si chiamano radio button questi quattro onde? La radio che c'è a casa dei nonni, la radio che avevano più bottoni, FM, AM, onde medie eccetera, di solito erano bottoni meccanici per cui se ne premevi uno gli altri saltava su da solo. Allora il radio ricordava il fatto che in quella radio potevi avere un bottone solo premuto e gli altri saltavano su da soli, è la stessa cosa che succede con queste con queste case linee che noi visualizziamo in modo tondo. Questo se possibile, poi questa tabella ci dice ma attenzione che se però nella tua interfaccia se hai dei limiti di spazio, vuoi risparmiare spazio, c'è un modo diverso, potresti avere invece un menu a scomparsa, perché se io ho 10 opzioni e voglio mettere dei radio button per ciascuna, ho bisogno di 10 righe nella mia interfaccia. Allora se quell'opzione è importante gli dedico questo spazio, se l'opzione magari non è così importante, non gli voglio dare tutto quello spazio, quell'impatto visuale, potrei avere una riga sola che se ne sta lì buona, collassata, chiusa e quando l'utente ci clicca sopra perché lui decide che adesso gli interessa modificare quel valore, si espande in una tendina con più voci. Quindi anche la stessa azione la posso compiere in modi diversi a seconda dell'importanza visuale che voglio dare con le operazioni o dalle limitazioni di spazio che esistono. Oppure è possibile anche inserire un valore nuovo all'interno di un campo di testo, in aggiunta ai valori che possano essere già previsti, cioè ho un elenco di valori ma posso anche inserirne uno nuovo. A, B, C, altro. Allora in questo caso vado a combinare widget diversi, combino dei radio button con una casella di testo e così via. Io di solito a questo punto faccio un esempio preso da un programma che conoscete bene, Word. In cui, a parte il menu qua sopra eccetera, blocchiamo il menu. Anche qua possiamo ritrovare molte convenzioni. In particolare mi piace prendere questa finestra di dialogo, font. Ti imposta le proprietà del carattere. Allora qui cosa si vede? Si vede, proviamo a analizzarla. Prima di tutto sfocate gli occhi, non leggete le scritte e vediamo il layout. Allora questa è fatta di due porzioni, carattere e avanzato. All'interno di una unica finestra che si chiama carattere. Già questo un pochino mi fa storcere il naso perché se la cartella madre si chiama carattere ha due sottocartelle, la prima delle quale si chiama come la cartella madre mi piace poco, ma vabbè. Questo avanzato già mi fa capire che probabilmente ci sono delle opzioni che non vorrò usare tutti i giorni e quindi sono state messe da parte per non complicare lo scenario principale. Poi ho la scelta del tipo di carattere. Il tipo di carattere è a cui hanno dedicato cinque righe, sempre presenti, scrollabili, in cui posso scegliere e selezionare un tipo di carattere tra quelli installati nel sistema. A cosa serve questa riga qua sopra? Serve a due cose. Una se io voglio scrivere, a filtrare, serve a filtrare l'elenco sottostante. Quindi cerco calibri, inizio a scriverla, mi permette di, se ho tanti fonti installate, visto che ne sto vedendo pochi per volte, il progettista di interfaccia ha pensato che l'utente poteva voler rifiltrare. Dopodiché, è possibile, anzi domanda che mi faccio prima di tutto, è possibile per me scrivere in questa casella di testo il nome di un carattere che non compare nell'elenco sotto? c'è il font pippo? Da errore o no? No. Non da errore perché è legittimo per me editare un documento che contenga dei font che non sono installati su questo computer. Se io faccio un documento con dei caratteri che ho installato sul mio computer non standard, ve lo mando, voi lo aprite, vi trovate le parti di testo su un font che voi non avete sul vostro computer. Sicuramente lo vedrete male, impaginato male perché non avete il carattere giusto, però il file dentro l'informazione sul carattere che aveva di partenza ce l'aveva. quindi questo è un caso un po' limite in cui ho un elenco di valori leciti ma l'utente può voler inserire dei valori aggiuntivi al di fuori di questo. Quindi qua ho combinato due tipi di interfacce. E' idem questo. Adesso questa è un pochino brutta perché ne hanno lasciato cinque righe ma in realtà ne ha solo bisogno di quattro. Poi c'è la dimensione del carattere che anche si comporta nello stesso modo. anche qua vedete che c'è 20, 22 ma se io scrivo 21 va bene lo stesso. Quindi in realtà io ho tre caselle in cui posso inserire ciò che voglio ma mi viene facilitato l'inserimento di uno dei valori predefiniti. tutto questo lo possiamo scoprire senza neanche sapere cos'è un carattere semplicemente vedendo quali sono gli elementi di interfaccia che sono stati usati da chi ha progettato questa finestra. E poi guardate qua sotto. Stile di sottolineatura. Stile di sottolineatura anche qui è una scelta. Ma perché lo stile, c'è bold, regola, raditalic, corsivo, grassetto, eccetera è stato messo così e questo è stato messo così? è la stessa cosa, è una scelta tra una serie di opzioni. Perché chi ha progettato l'interfaccia ha pensato che questo fosse meno importante e quindi ha scelto un widget che occupasse meno spazio a parità di funzionalità. questo occupa meno spazio ancora perché poi se apro questo invece mi compare una griglia molto più ampia che se fosse sempre aperta occuperebbe troppo spazio nella finestra. E occuperebbe troppa importanza per l'utente. Cioè non è normale che ogni carattere abbia un colore diverso. E quindi facciamo in modo che cambiare il colore sia più difficile in un certo senso. E poi ci sono una serie di opzioni qua sotto. Ecco qui è dove il progettista invece di Word, ma questo esiste da dalle prime versioni già di Word, ha fatto degli errori. Se io guardo queste voci e visto che sono caselline quadrate, sono delle checkbox che posso spuntare o non spuntare io immediatamente penso che tutte queste, queste sono sette opzioni siano tutte indipendenti l'una dall'altra. Le posso selezionare o deselezionare a piacere in qualunque combinazione mi piaccia. Questo è ciò che mi sta dicendo questa interfaccia. Adesso l'abbiamo messa in inglese, se la mettessimo in giapponese non potremmo fare altro che dire ma secondo me è così perché non sappiamo cosa vogliono dire. In realtà non è così. Perché le prime due sono mutuamente esclusive. se clicco sulla seconda mi deseleziono la prima e così via. La terza e la quarta sono legate tra di loro ma indipendenti tra la prima e la seconda. E queste tre, le prime due, sono legate tra di loro e indipendenti dall'ultima che invece va per conto suo. Allora in realtà qui non ci sono sette opzioni tra cui selezionare. Ci sono quattro gruppi di due opzioni, due opzioni, due opzioni e un'opzione singola. All'interno di ciascun gruppo è possibile selezionare una sola. Cioè in questo caso l'interfaccia, qui l'hanno fatta per ragioni forse più estetiche, carine, con i bottoncini, tutti uguali. Però non mi fa capire quali sono le voci che sono in contraposizione l'una rispetto all'altra. Se vogliamo bastava anche solo una mezza riga di spazio vuoto tra la seconda e la terza per far capire queste due poi quell'altra due. Lo spazio parla più delle parole. Così come questa idna la potevi spostare un pochino. Già mi avrebbe aiutato a capire che erano gruppi separati. Se io prendo un altro programma di videoscrittura tipo LibroOffice e provo a vedere come hanno implementato questi altri signori la stessa funzionalità, la parte di carattere è uguale. Loro in più hanno messo la lingua, mentre invece in Word la lingua non la trovate nel formato carattere, è tutta un'altra parte. Gli effetti del carattere. E questi effetti sono effettivamente dove ci sono delle casole di testo sono tutte una indipendente dall'altra. Dove ci sono invece delle parti mutuamente esclusive l'una rispetto all'altra e le hanno messe all'interno di una tendina a discesa. Qui sono tutti i vari modi di poter fare dei puntini oppure delle linee attraverso e sono tutte raccolte nello stesso punto. Quale è meglio? Beh, se vogliamo, in questo caso l'interfaccia utente è molto più fedele alla natura dei dati che rappresenta, alla natura delle operazioni che posso fare. non mi può venire in mente di fare qualche cosa che non sia previsto da questa interfaccia. In quest'altro ho delle cose non dette che scopro facendo oppure scopro conoscendo cosa vuol dire quel termine, quella parola, quella azione. Se è sbarrato, non è sbarrato due volte, punto. Nello stesso tempo questa interfaccia è più semplice. D'altro canto, hanno preso delle scorciatoie, diciamo così, grammaticali di composizione dell'interfaccia per avere una cosa più immediata da usare mentre qui per ottenere lo stesso risultato, beh, devo fare più clic se non altro e ho una serie di opzioni aggiuntive. opzioni aggiuntive che qua non esistono, beh, quindi ho di più però richiede forse un livello di esperienza leggermente più alto. ovviamente è un compromesso da prendere. Qualcuno queste cose le ha scelte. Ha pensato, lo faccio in un modo piuttosto che in un altro. non sto dicendo che chi ha progettato i progetti della Microsoft sono ingenui. No, non lo sono per nulla. Se hanno fatto delle scelte, hanno valutato che magari la distinzione tra radio button e checkboxes era al di là dell'intuizione comune della maggior parte degli utenti. la stessa scelta che ha fatto la Apple di dire noi, noi radio button non li mettiamo e checkbox neanche, abbiamo due elementi completamente diversi e anche qua è stata fatta. Se andate a cercare l'interfaccia di Office, radio button non ci sono. Quindi o usano dei menu a discesa o usano del checkbox in modo improprio. però questo esercizio qua, secondo me, questo o altri analoghi che vi invito a fare, aprite una pagina web e prima di leggere il contenuto provate a chiedervi quali sono le operazioni che posso fare, dove posso inserire i dati io, dove li posso scegliere, quali scelte sono obbligatorie, quali sono facoltative, quali sono mutuamente esclusive l'una rispetto all'altra e così via. e ovviamente ciò che vedrete dipenderà ovviamente molto dal programma, dal tipo di livello degli utenti che si aspetta e molto anche della piattaforma ovviamente. Ad esempio queste linee guida che erano state fatte per Windows XP se non sbaglio, davano in modo molto dettagliato dei criteri di scelta, dicendo questa è la convenzione al giorno d'oggi. poi le convenzioni lentamente si evolvono e proviamo a leggere come sono fatte queste linee guida. Poi ovviamente siamo noi responsabili di decidere come sarà fatta la nostra interfaccia, però avere un riferimento su qualche regola generale non ci può far male. allora dice, ad esempio, se tu vuoi lasciare all'utente la scelta tra alternative mutuamente esclusive, i dati sono discreti, quindi non è un qualunque valore ma è un insieme finito di valori, che si possono rappresentare a parole, best represented, cioè la cui rappresentazione più naturale è a parole, e sono in un numero limitato, massimo 8, dice lui. Allora, se valgono queste quattro proprietà, hai quattro suggerimenti, a seconda di queste sottoproprietà, sottocasistiche. L'utente non deve mai aver bisogno di inserire un valore nuovo, type entry, di scrivere con la tastiera qualcosa di nuovo. Allora, uso il radio button. Il contenuto non cambia mai e c'è spazio sullo schermo. Se invece l'utente non deve inserire dei valori nuovi, il contenuto non cambia mai, ma non hai molto spazio sullo schermo, allora mette una tendina scomparsa. Semanticamente, un gruppo di radio button e una tendina scomparsa rappresentano la stessa cosa. Scelta di una voce, tra un elenco, di possibilità predefinite. Non cambiano mai, c'è scritto. Se invece vogliamo lasciare all'utente la possibilità di inserire un valore e o il contenuto può cambiare, allora uso questi tipi di rappresentazioni, che sono una combinazione tra una casola di testo e un menu a tendina, sempre aperto, oppure che si può aprire solo su richiesta, a seconda della quantità di spazio che voglio usare, che sono quelle che abbiamo visto in Word. Quindi ho questa casola di testo in più che mi dice se vuoi puoi inserire un valore tu anche diverso da questo. e se invece avessi tante voci, nove o più lui dice, lui ha messo a otto la soglia, e beh, allora nel caso in cui non sia necessario inserire dei dati, il contenuto non cambia mai e ho spazio a disposizione, lui dice usa una list box che sarebbe questa. Cioè, a un certo punto se sono nove o più, non usare nove, dieci, quindici, trenta radiobatton. Perché va bene che lo spazio sia la disposizione, ma oltre un certo punto diventano anche difficili da leggere. usa comunque la list box che era questa. Se non hai abbastanza spazio sullo schermo, usa una list box a scomparsa, quindi una lista di questo genere che abbia il bottoncino a fianco che permette di collassarla. Gli stessi elementi si riusano in modo diverso, perché quelli sono quegli elementi, non ce ne possiamo inventare degli altri. oppure nel caso in cui l'utente debba poter inserire dei valori, in realtà vedete che le suggerimenti che dà qua e qua sono esattamente gli stessi che c'erano nella pagina precedente, cioè non cambia nulla. Ma questo era per dati, diceva il testo, che sono espressi a parole. Ma ci sono altri tipi di dati che invece sono esprimibili in modo più strutturato, ad esempio graficamente. I colori, no? Quando faceva Word per la scelta dei colori non mi dà l'elenco dei colori chiamati per nome, me li organizza in una matrice bidimensionale in cui è anche facile orientarsi. Oppure le date. Noi non scegliamo una data dell'anno da un elenco lunghissimo che parte il primo gennaio e finisce il 31 dicembre. Perché per noi l'anno è qualcosa che è organizzato a settimane o a mesi. E quindi abbiamo una visione bidimensionale del tempo, almeno bidimensionale. E quindi in quel caso abbiamo una sorta di list box il cui contenuto però non è una lista ma una griglia, un insieme di griglie. se i dati si prestano a essere meglio compresi dell'utente così dobbiamo usare questa alternativa. Altre possibilità, altro caso 4. Alternative mutuamente esclusive, quindi vuol dire che ne devo selezionare una sola, ma non frequentemente selezionate. Quindi non voglio usare troppo spazio di solito. Dati ben noti, facili da ricordare, predicibili e consecutivi. Cioè, se ho una casella con scritto il mese, devi inserire il mese. E sappiamo quali sono i mese. Sono 12, lo sappiamo tutti da memoria. E dopo aprile viene maggio, sappiamo anche in che ordine ci sono. Quindi, una list box è prenderci in giro, dai. Ho un radio button con i nomi di 12 mesi. Lo so già quali sono i nomi, non hai bisogno di farmeli vedere. So già in che ordine sono, non hai bisogno di mettermi l'uno sotto l'altro. Dammi semplicemente una casella da cui potrei scegliere. Può cominciare a scrivere e lui si completa. L'esempio che facevo prima delle province. Scrivo la T e lui mi fa vedere i nomi del capologo di province che iniziano con la T. Finito. Non devo vederli tutti. Non mi serve. Quindi ci sono dei casi in cui l'utente sa già qual è il valore. Prima di vederli, sa già qual è il valore che gli interessa. Allora non ha senso occupare tempo e spazio, perché a parte lo spazio sulle pagine, ma c'è anche il tempo per cui l'utente legga queste voci, per dirgli una cosa che lui sapeva già. Oppure come a volte su valori numerici, la dimensione del carattere noi ce l'avevamo così, dovevo sceglierla. Ma perché una serie di valori predefiniti che possono aver senso? Altrimenti una casellina come c'è sugli smartphone dove si hanno sempre problemi di spazio, con il bottone più o meno a fianco mi permette di aggiustare il valore che voglio. Oppure direttamente entrare dentro e scrivere il numero. Perché tanto so quali sono a priori il significato dei numeri. se invece questi dati sono dati di tipo continuo, finora hanno valori discreti, distinti l'uno dall'altro, allora il singolo valore, il più o meno, non hanno senso. Allora cerchiamo delle alternative grafiche che ci permettano di dare il senso della continuità. tipo uno slider, no? Dove, che non so, quando possiamo impostare il livello di trasparenza di un'immagine, la spostiamo di scurire, regolare il contrasto. Io non ti so dire se il contrasto deve essere messo il 62 o il 64%. Fammi provare che vedo. E poi mi fermo quando sono a livello giusto. Poi questo un pochino è anche molto abusato. Io odio sempre le interfacce video tipo YouTube & Company in cui non puoi mai posizionare il punto esattamente dove vuoi, no? Devi andare lì, sperare di beccare un pochino più avanti, un pochino più indietro, ti va avanti di 8 secondi e tu se vuoi beccare a metà non ci riesci mai. E non c'è mai una casellina in cui se io so esattamente il time code, a volte la posso inserire. Questo è vero che il tempo è una cosa continua ma a volte se uno deve fare operazioni di precisione gli serve anche il numero. Quindi queste varie alternative non pensatele mai come esclusive. Pensate a cosa vuoi fare l'utente, dovete far fare l'utente e qual è la o le modalità anche contemporanee da offrire all'utente. E poi ci sono i casi di punto 6 di alternative non esclusive cioè in cui abbia senso selezionarne più di una. Allora questo è diciamo il dominio indiscusso del checkbox in cui posso spuntare tutte le caselle che mi interessano. e purtroppo purtroppo non lo so se ho un numero elevato di elementi e ho spazio limitato sullo schermo non esiste un'alternativa decente per poter selezionare più voci. o meglio esiste ma non è decente. Esiste in molti toolkit grafici la cosiddetta list box selezione multipla. C'è una tendina come fosse questa che si apre in cui però puoi selezionare più di una voce contemporaneamente. di solito lo devi fare tenendo premuto control cose di questo genere. Ma per fortuna non se ne vedono molte in giro perché poi nessun utente in realtà è in grado di usarli bene. Sono elementi se devo selezionare delle voci multiple e ne ho molte non c'è nessun widget che mi permette di farlo bene. una soluzione che a volte funziona bene ad esempio immaginate come si chiama le gallerie di immagini in cui hai di fronte a te la grilla di tante fotografie che hai preso e devi selezionare 3, 4, 5 che vuoi copiare vuoi mandare a un tuo amico eccetera. Allora in quel caso il metodo di selezione è più complicato. Di solito ne premo lungo una aspetto che si evidenzi allora il sistema cambia modalità entra in modalità selezione e allora tocco tutte le altre che mi interessano. Però ha già una operazione a due fasi cioè la griglia di visualizzazione che si trasforma in griglia di selezione dopo che ho premuto lungo su un elemento. Questo la prima volta qualcuno ve l'ha dovuto dire o l'avete visto fare da qualcun altro perché altrimenti non mi sarebbe mai venuto in mente. Oppure l'avete provato per l'analogia con altre parti dell'interfaccia in cui succedeva questo. Quindi anche qua ci sono come sempre alcuni elementi più intuitivi altrimenti più appresi per le operazioni più complicate come oggettivamente questa. E questi sono gli elementi di base. Dopodiché questi elementi li raggruppiamo usando titoli, usando divisori, usando spaziature che permettono all'utente di far capire quale dato è correlato a quale altro. E con questo anche lì ci sono tutta una serie di elementi grafici che ti permettono di costruire queste cornicette, questi raggruppamenti, questi layout all'interno della pagina. e la pagina ampia a sua volta ha una sua grammatica. Qui c'è un titolo, qui c'è un footer, qui ci sarà un menu di opzioni, qui c'è il contenuto principale, qui c'è il contenuto accessorio e qui ci sono dei contenuti correlati. probabilmente abbiamo pensato tutti così, per abitudine, per consuetudine, ma in realtà per convenzione. Perché c'è questa consuetudine di organizzare siti così? Perché sono tutti così, perché gli utenti se li aspettano così, perché i progettisti lo costruiscono in modo che gli utenti se li aspettino, in un modo in cui l'utente si possa trovare a suo agio. Per questo c'è una certa conformità, ma non è una conformità imposta, è una conformità per convenienza di tutti. E quindi il giocare sugli spazi, sulle divisioni eccetera della pagina aiuta l'utente a capire subito qual è, dov'è la parte che gli interessa, senza andare a leggere tutto. Tenete presente che gli utenti dimostrano gli studi di eye tracking. Eye tracking è un dispositivo che si mette dietro un computer e ti fate una telecamera che inquadra i vostri occhi e con un sistema di riflessione infrarosse che non ci interessa oggi, capisce dove state guardando. Lo usano molto i pubblicitari. Quando ti fanno il bel post della fotomodella che pubblicizza un certo oggetto vogliono essere sicuri che uno oltre a guardare le curve della fotomodella guardi anche il nome del prodotto che viene pubblicizzato. quindi fanno degli studi in cui ti mettono di fronte una fotografia te la tolgono dopo due secondi, un secondo e il sistema nel frattempo ha registrato quanto tempo è speso nelle varie parti della pagina, della figura. E la nostra vista non è mai così. È sempre molto, non è mai lineare la visione ma è sempre molto a scatti. Ecco, lo stesso strumento che possono usare per fare studi di usabilità in cui mostro un utente una pagina e vedo quali parti delle pagine l'utente legge. E si vede che la maggior parte degli utenti si concentra qua. In una pagina l'80-90% del tempo è speso qua una sorta di forma triangolo che però esclude l'angolino in alto sinistro. poi un pochino scendi e un pochino vado di qua. Se vuoi che l'utente veda il contenuto per te il contenuto è importante lo devi mettere in quel luogo. Altrimenti l'utente lo troverà solo se lo andrà a cercare ma a colpo d'occhio, come si dice non lo troverà. Quindi ci sono dati empirici che poi sono anche, diciamo così rafforzati da studi più teorici. Così come un altro elemento infatti quello si dice che gli utenti le pagine web non le leggono, le scannano. Fai uno scanning molto rapido in cui danno un primo sguardo capisci dove sono i titoli quali sono le sezioni e poi entri in quella che ti interessa senza neanche leggere le altre. Ma senza neanche leggere i titoli. E poi il nostro occhio ha allenato una capacità incredibile per ignorare le pubblicità. tutto ciò che dal punto di vista della forma e dell'aspetto grafico sembra una pubblicità non lo guardiamo. Non lo vediamo proprio. Se ti dicono cosa hai appena visto non lo sai perché non l'hai percepito. Allora questo qui e vabbè, meno male per noi ecco. Ma è un problema nel momento in cui ci sono dei siti che cercano di farti vedere un avviso importante domani il sistema è spento non funziona eccetera oppure hanno cambiato le regole per e ti mettono un bel banner all'inizio colorato, grosso, qua. E la gente non lo vede. siamo ciechi a questo tipo di cose perché visivamente l'abbiamo prima ancora di pensare l'abbiamo catalogato come pubblicità. Quindi bisogna fare attenzione anche graficamente a mantenere far capire che questo è un contenuto e non è una cosa accessoria che potrebbe essere frainteso per un'immagine decorativa o un'inserzione pubblicitaria o altro. Quindi questo è il lavoro che devono fare i progettisti di questi sistemi. Noi abbiamo delle pretese più limitate all'interno del corso quindi in questa rush che abbiamo fatto insieme per cercare di capire cosa voglia dire progettare un'interfaccia utente adesso scendiamo di nuovo dentro il corso per noi cosa proveremo a fare? Proveremo a costruire dei mock-up quindi delle bozze di interfaccia utente che illustrino i casi d'uso che abbiamo sviluppato. Quindi quando io descrivo un caso d'uso come faccio a mappare quella sequenza di scambio di informazioni in un'interfaccia concreta usando mock-up. quindi in ciascun passo a ciascun passo del caso d'uso deve corrispondere una parte dell'interfaccia grafica e in ciascun dato barra informazione previsto dal caso d'uso dovrà essere rappresentato da qualche widget all'interno di quell'interfaccia e qualunque percorso penso alle eccezioni alle estensioni che è previsto dal caso d'uso deve essere in qualche modo attivabile da qualche bottone da qualche azione che faccio con l'interfaccia utente ok? Quindi noi cercheremo di implementare gli elementi dell'interfaccia utente implementare le informazioni le interazioni descritte dal caso d'uso attraverso una bozza di interfaccia utente questa coerenza di nuovo tra caso d'uso e mockup è quello che per noi sarà importante mantenere assolutamente il fatto di fare dei mockup più carini più belli che abbiano un layout migliore eccetera è un aspetto che ai fini del corso non trattiamo e non verrà neanche valutato diciamo così in sette d'esame ok? quindi l'aspetto estetico eccetera non avendo tempo di approfondirlo di sicuro non fa parte della valutazione quindi ci affidiamo semplicemente uno al buon senso ma anche all'esperienza che avete voi tutti i giorni quindi cercate di ispirarvi a quello che vedete in giro cercate in questa settimana che ci separa dal prossimo laboratorio in cui faremo i primi mockup mentre andate sui vari siti e usate le varie app provate a decomporne con occhio critico cosa c'è qua? cosa mi vuole dire il progettista il grafico di questa interfaccia? cosa ho capito? ok? e tanto più l'interfaccia ha successo quanto più voi avete capito come si usa senza doverlo ragionare o pensare ricordatevi don't make me think ok? allora dalla prossima settimana impareremo a usare questo strumento online che si chiama MyBalsamic che permette di costruire dei mockup adesso ciascuna di queste cartelle è un mockup diverso inizieremo a costruire i mockup corrispondenti ai casi d'uso del nostro esempio e poi voi in laboratorio andate avanti con i vostri esercizi per oggi abbiamo finito grazie grazie